Mario Rigonistero nel Sergente della Neve ti descrive con il passamontagna bianco risvoltato attorno al capo come il turbante di un indiano e dice che col Tenente Cenci si parlava di cose belle e gentili. Queste righe mi hanno affascinato e mi hanno ispirato la figura di uno dei personaggi principali della seconda via che è il Tenente Sala. La cosa curiosa è che oltre a questo questo incipit, vi sono forti assonanze tra il personaggio del Tenente Sala e l'esperienza che vive nel film e l'esperienza che Nelson Cenci ha vissuto davvero durante la ritirata di Russia. Ad esempio come accade nel film al Tenente Sala, anche Nelson Cenci viaggiò su una piccola slitta che era poi una barella porta feriti dove avevano inchiodato sotto il legato degli sci e percorse vari giorni nell'oceano della steppa in questo modo trascinata da un muro. Cosa successe esattamente a Nikolaevka? Tu mi hai chiesto due cose. Del Mario Rigoni ero molto amico perché eravamo vicini di postazione. tra i due nostri polotoni c'era una piccola valletta che tra l'altro tenevamo in comune dove avevamo messo una metodatrice presa e poi ci trovavamo perché eravamo vicini. Lui mi parlava di montagna, io gli parlavo di mare. D'altra parte ero molto amico anche di un certo Sarpi che invece era sulla mia sinistra e che lui mi parlava di mare e come tu giustamente dici nella tua via penso. Noi abbiamo vissuto questa tragedia però in questa tragedia abbiamo sognato spesso. Io guardando al di là delle mie postazioni qualche volta invece di vedere questo bosco colmo di neve mi sembrava di vedere la spiaggia di Rimini e chiudendo gli occhi sognavo di essere nel caldo della sabbia. Magari Rigoni invece in quel bosco vedeva le sue montagne. Ecco noi vivevamo molto di ricordi, molta nostalgia, molto pensiero di tornare a casa. L'altra domanda che mi hai fatto. Io sono stato ferito a Nikolaevka nel primo attacco e per fortuna mia sono stato ferito a tutte le due le gambe, ho avuto la frattura del femmere da una parte e della rotta dall'altra gamba. E sono stato salvato dall'amore dei miei alpini perché mi hanno messo su una slitta, come ti ho detto, mi hanno trascinato per cinque o sette giorni, fino a che siamo arrivati alle linee tedesche e come mi hai chiesto prima, io sono rimasto incosciente per due giorni. Poi mi sono svegliato e questo Lancini mi ha assistito come fosse un fratello. Però devo dire che anche la sera quando arriviamo nelle Isbe e c'era qualche donna, anche queste donne ucraine, hanno assistito i nostri feriti, forse pensando che altre potessero fare la stessa cosa per i loro figli che erano lontani. Quindi noi dobbiamo molto a queste donne ucraine. Noi purtroppo abbiamo avuto, purtroppo dico io, forse anche lui, degli alpini che erano sposati e avevano a casa anche i figli. Quindi la differenza era sostanziale. Noi eravamo giovani e a questo proposito le posso raccontare la storia di un certo Minelli che viene riportato anche da Mario Rigoni. Questo Minelli era uno di Rovato, che è un paese qua vicino, il quale aveva un figlio a casa. Era tornato in licenza, la mamma, la moglie aveva avuto un figlio e lui mandava i soldi ogni mese della Deca a casa perché voleva che la sua moglie lo andasse a prendere col bambino col vestito bianco all'attrazione quando arrivava. Ecco. Purtroppo Minelli è rimasto in Russia a Nikolaevka e le ultime parole sue sono state a Rigoni quando gli aveva detto «Mario, ti raccomandi il mescetto». Che voleva dire «ti raccomando mio figlio». A ritorno del treno dalla Russia la moglie di Minelli è andata, non sapeva niente, è andata a prenderlo col vestito bianco. Ecco, questa è la tragedia oltre che delle madri delle spose.